Un accordo sulla nuova legge sugli appalti che punta sulla qualità del servizio, sull'occupazione e sulla reddittività aziendale e sul rispetto dei contratti nazionali è stato firmato questa mattina tra i rappresentanti di Alleanza Cooperative e sindacati CGL e Cisle Will. L'accordo prevede che appalti e subappalti siano tutti con evidenza pubblica, che ci siano quote e affidamenti diretti a cooperative sociali. Riguarda quindi detassazione, apprendistato e codice degli appalti. Una detassazione che è quella che poi noi firmeremo oggi sul livello territoriale è per le cooperative che con un progetto di produttività, di reddittività, passeranno a una tassazione del 27% al 10%. Questo permetterà ai dipendenti barassoci di avere un potere d'acquisto superiore. L'apprendistato che è la prima volta che permetterà ai ragazzi di poter studiare e lavorare con degli incentivi per le aziende che le assumeranno. Terzo tema è il codice dei appalti, sul quale noi ci teniamo molto perché quando si passa da un appalto all'altro che ci sia una tutela per le persone che comunque facevano parte dell'azienda uscente. Per i sindacati l'accordo rilancia la capacità negoziale del sindacato. Le cooperative puntano sulla qualità del lavoro. Basta con situazioni di sfruttamento. Con la valorizzazione del lavoro è stato detto riparte la crescita. Questo consente da un lato ad advenire anche dal punto di vista qualitativo a una qualità appunto del lavoro maggiore, migliore e c'è un coinvolgimento anche dei soci lavoratori e dei lavoratori e questo gli consentirà ovviamente con questo accordo di portare a casa qualche soldo in più, quindi detassato. Tra gli elementi di novità la cancellazione del massimo ribasso anche per appalti sotto il milione di euro considerato che costituiscono quasi il 90% del totale. Questo tema va a toccare cose che sono molto importanti come la clausola sociale ad esempio quando un'azienda perde un appalto e i lavoratori che rimangono fuori da questa azienda devono essere riassunti dall'altra azienda. L'accordo sugli appalti segue quelli sulla detassazione e sull'apprendistato sottoscritti di recente tra sindacati e alleanza delle cooperative. Questo accordo è fondamentale perché ci dà l'opportunità intanto di non applicare il job act e quindi gli effetti più nefasti alla nuova normativa che regola il mercato del lavoro. Credo che sia anche importante per il fatto che le cooperative in questo momento stanno dimostrando di voler seguire un percorso per quanto riguarda il riconoscimento delle finte cooperative quindi per evitare anche che il mondo cooperativo risulti competitivo non sulla base della qualità dei lavoratori ma sulla base di una competizione sul costo del lavoro.